Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie! E' la parte dei sottotitoli. Ok. Ok. Ma il nostro pericolino è che mi attacca, a questa parte che si sta con il piano. No, ma la parte che si è riuscita. E' come un po' di tà, e se capta bene. Non? Oh, questo è un po' di tà. A-ha. How am I supposed to get this guy then? How am I supposed to get this guy? Huh? Bro, did I just smack the toupee off his head? Oh, that's crazy. She just went through a lot. You don't want to take advantage of her. But I was just about to say, since she's been through a lot of trauma right now, now is like the perfect time when her mental is weak, so you're able to take advantage of her, like, morally. You need to stop. Talking. Like, let's just leave it. マダラに武器の説明だけ聞くこともできるけどどうするか聞いといて。 もう一度いいですか? 武器の説明だけ聞くこともできるけど、 あのマダラ金なくてもどうするか聞いていて。 分かりました。はい。 どうする? 埋める? Sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Where are the other one at? Grenade launcher? Damn! Oh, now you give it to me. Wait, which way? Where is this guy at? Sì, è stato molto bene. Ocni Ocni Mino Infino Ocni Missus Ok Il fuoco si è fuoco, si è fuoco. Occia non, occia non. Mi sono andato. Si sono un po' di fuoco. Sì, sì. Sì, qui c'è? gli senti di nino questo Kio è oltre Lutrante sì che sono conti sono non ho una cosa successiva sa anche la tua allora tutto lo ar contemplate ma è sto gli dice gli c'è gli c'è AHA gli anima Grazie a tutti. Grazie a tutti.